La riserva naturale del Parco Burcina Felice Piacenza è un'area naturale protetta di circa 57 ettari istituita nel 1980 con legge della Regione Piemonte ubicata fra i comuni di Pollone e Biella. Il comune di Biella è proprietario di quasi tre quarti dell'intera superficie. La Burcina è un arrotondato rilievo boscoso sulla cui cima passa il confine tra il comune di Pollone e quello di Biella. Le sue pendici nord-orientali appartengono al bacino del torrente Europa, mentre quelle esposte a sud-ovest, sulle quali è situato il Parco, sono invece tributarie del torrente Oremo. Grazie a tutti! Costruito a imitazione dell'opera della natura, il Parco è raggiungibile attraverso le principali vie di comunicazione che conducono a Biella. Costruito a imitazione dell'opera della natura, il Parco è raggiungibile attraverso le principali dei pari della natura. Grazie a tutti. Il ricetto di Candelo è un complesso architettonico di epoca medievale situato a Candelo, in Piemonte. Il ricetto è composto da circa 200 edifici denominati cellule che occupano un'area di circa 13.000 metri quadrati dalla forma pentagonale e con un perimetro di circa 470 metri. Misura circa 110 metri di larghezza per 120 metri di lunghezza. Il complesso è attraversato da strade. Definite con evidente francesismo roux. Si tratta in particolare di 5 roux in direzione est-ovest, interseccate da due ortogonali. La data di avvio della sua edificazione non è determinabile con esattezza. Anche se la prima citazione conosciuta di Candelo, nella sua antica denominazione Canderium, risale all'anno 988. In un documento in cui Ottone III ne conferma il possesso al feudatario Manfredo. Salvo poi, l'anno successivo. Conferire il borgo al feudo facente capo alla chiesa vercellese. Oggi il ricetto di Candelo è una meta turistica dall'atmosfera particolarmente affascinante che richiama gli appassionati di Medioevo o semplicemente curiosi che approfittano del weekend per visitare il biellese. Grazie a tutti. Grazie a tutti.